Cosedil S.P.A., l'impresa di costruzioni civili ed infrastrutturali fondata da Andrea Vecchio nel 1965, sarà il title sponsor della Saturni AC Castello per la stagione 2024-2025, quella in cui i bianco-blu disputeranno il campionato italiano di volley di serie A2. L'ufficializzazione della partnership durante la conferenza stampa, che ha avuto luogo nella sede di Cosedil S.P.A. a Santa Venerina, appuntamento al quale erano presenti il presidente della Saturni, Luigi Pulvirenti, e i dirigenti della società e della Cosedil, con a capo il geometra Andrea Vecchio, presidente e fondatore della società di costruzioni. Quella annunciata è una partnership basata su valori comuni alle due storiche realtà siciliane che nel 2025 saranno unite da un altro importante evento, i 60 anni dalla loro fondazione. L'idea è quella di dare vita a azioni concrete rispetto al payoff del nostro logo, che è Costruiamo il tuo domani, quindi dare la possibilità di trasferire il valore aggiunto che creiamo con la società nel territorio. La palla a volo alla quale siamo legati da qualche anno è il modo migliore, soprattutto in un momento nel quale a Catania si arriva da una retrocessione e si vuole andare a riconquistare la massima serie. Noi siamo sicuramente orgogliosi di poter annunciare questa partnership con una delle aziende più prestigiosi nel nostro territorio, che negli ultimi anni con merito ha saputo ritagliarsi un ruolo di leadership nel mondo delle infrastrutture strategiche a livello nazionale. Siamo sicuri che insieme potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi e che dal punto di vista sportivo non ci siamo mai nascosti, sono quelli di provare a tornare in Superlega e certamente avere un'azienda come Cose di Lele Spalle insieme a tutte le altre che anche quest'anno ci sosterranno è per noi un motivo di non soltanto soddisfazione, ma anche un qualcosa che dà stabilità e profondità al nostro progetto sportivo.